Pietro Maio, sono partiti i lavori all'antistadio, lavori per il momento di restyling? Di restyling, lei direttore molto spesso ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica lo stato di degrado, di incuria di quell'impianto dell'antistadio. Oggi siamo ai lavori, qualche giorno sono partiti lavori, lavori anche di sostanza sulla struttura e quindi sull'impianto. In questa prima fase faremo dei lavori di rivistazione dei servizi igienici la rete di recensione si era ripristinata nuova sulla copertura della struttura, i bagni, i spogliatoi, insomma ci sarà un restyling generale sull'impianto e con fondi 200.000 euro della regione molise. L'anno prossimo, come lei ben sa, abbiamo postato nel bilancio del 2015 500.000 euro per l'erbetta in erba sintetica da ripristinare perché quella è veramente rovinata e quindi avremo anche l'omologa da parte della Lega Nazionale di Lettanti. Quindi diciamo dei lavori work in progress, come si suol dire, per far sì che quel catino possa essere utilizzabile al pieno e in tutta sicurezza. Li giocano evidentemente da campionato della terza categoria all'eccellenza, quindi è molto usato quell'impianto e aveva bisogno già da tempo di un restyling e di una rimessa in sicurezza. Cosa che stiamo facendo? Immaginiamo di terminare i lavori prima dell'inizio del prossimo campionato. Chiaramente io ci capito spesso, insomma laggiù evidentemente sono lavori che dovevano essere fatti, ci vorrebbe poi anche un controllo da parte dell'amministrazione comunale perché io vedo cose incredibili, squadre che segnano un gol, che divergono le reti, oppure gente che si arrabbia, poi entra negli spogliatoi e spacca tutti i suppelletti. Bisogna finirla anche con questo tipo di atteggiamento. Quello che lei sta sottolineando, direttore, è evidentissimo, tant'è che è un problema da risolvere, altrimenti i lavori che faremo a breve, che riporteranno a piena funzionabilità quell'impianto, dopo un pochissimo tempo, grazie poi alle frustrazioni anche delle squadre che vengono lì a giocare, magari scaricano il proprio nervosismo sull'impianto e sulle suppellettere e quant'altro. Quindi questo è da evitare, noi ci impegneremo come amministrazione comunale a trovare una situazione diversa, che sia più efficace da questo punto di vista per tenere quella struttura in modo decoroso e in modo continuativo a disposizione dei calciatori e del campionato della nostra regione. Qui certamente, poi volevo chiedere ancora una cosa, c'è l'asfalto che dovrebbe partire a settembre della zona parcheggi e poi quello che interessa anche a tutti i tifosi del Campobasso, Selvapiana, anche lì è previsto, ci sono 800 mila euro della regione Molise, i tempi saranno un attimo più lunghi. Sì, il cronoprogramma che noi abbiamo in mente e anche secondo gli atti, come lo stato degli atti, come sono messi, io immagino che per quanto riguarda l'asfalto dell'area a servizio dei parcheggi del Selvapiano, non sto parlando dello stadio, quello più importante, io penso che entro settembre sarà asfaltata quell'area, ho rimosso, sto rimuovendo gli ostacoli che c'erano e penso di averli rimosso, per cui adesso la procedura burocratica si è attivata a pieno e io immagino che per il campionato quell'area potrebbe essere usufruibile da parte dei tifosi locali e di quelli ospiti. Per quanto riguarda lo stadio stiamo aspettando, ho avuto modo di dire anche alla vostra trasmissione, la riconferma da parte della Regione Molise il finanziamento che c'è, è solamente un adempimento burocratico per cui la pubblica amministrazione non può fare a meno, appena quella nota dalla Regione Molise, a breve, io penso che entro luglio ci giungerà, noi siamo pronti per la gara. Nel frattempo stiamo anche, le do una news, rivisitando il progetto in qualche modo per rendere ancora più di qualità rispetto anche al campionato che il Campobasso vorrà fare, che immagino vorrebbe salire di categoria.